Bentornati al mio blog video psicologico. È natalizio a questo punto, visto che il periodo è questo. Un piccolo dono che vorrei fare a chi è passato attraverso un due di picche, cioè tutti praticamente. Quello che vorrei dire di semplice, perché vedo che molti si tormentano per questa cosa qua, un no è un po' il discorso del brutto voto anche all'università a scuola. Un brutto voto, un no, una negatività che riceviamo, è una negatività circoscritta a un qualcosa. Il brutto voto all'università o la bocciatura all'università non è una bocciatura esistenziale umana. Non sapevi, magari non hai studiato bene, non sapevi quella cosa. Poi non è accademico in generale, è legata con la materia. Se una donna, se un uomo ti dà picche, vuol dire che sei brutto? Vuol dire che sei antipa? Forse sì, ma per quella persona. Non è bello avere la percezione di essere sgraditi, trattino sgradevoli per qualcuno, ma d'altra parte trovo che sia narcisistico pensare che si debba o si possa piacere a tutti esteticamente e psicologicamente. Quindi, vabbè, una persona ti dice no, una persona che a sua volta magari ha ricevuto no da qualcuno, è una ruota che gira, accettiamolo, non è un no esistenziale, non è un no universale, non è un no... Perché quello che succede è che spesso questi no qui hanno un effetto a macchia d'olio, per cui vanno e iniziano, ti becchi il no per quella roba lì e poi inizia avere la percezione che sia un no per tutta la persona che sei. Ma questo è un problema tuo, cioè nel senso che non è così. Una persona non ti ha detto no cassandoti sul pianeta a livello esistenziale, ha detto no, a me non vai, amen, amen. Poi è difficile, mi rendo conto, nel senso, la sto facendo semplice, però quello che voglio che capiate, che sembra una banalità, ma in realtà il grande dolore del picche è legato a questo, è che noi non riusciamo a circostanziare, a compartimentalizzare quel no lì, e lo facciamo andare a toccare in maniera tentacolare tutta una serie di nostre istanze interne per cui un no diventa un no esistenziale e ci fa scattare dimensioni ansioso-depressive. Questo non va, questo è un modo cognitivamente errato di intendere un no che una persona ci ha dato con più serenità di quello che voi pensate. Non gli andavi, ma non è che pensa male di te. Non gli andavi, non sei la persona giusta per lei. Ok, buon Natale.